Fermi! Ladri! Commisi un furto. Rubai quello che avevi in abbondanza. Non era per goderne che volevo rubarlo, ma per il furto stesso. Volevo fare una cattiveria gratuita. Per il peccato. Perché? Aurelio Agostino di Tagaste. Ecco com'ero. E io ti batteggio nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Dio è più fraterno di ogni fratello.